Come fa Renzi a garantire di fatto quell'affidabilità dopo aver scatenato di fatto una crisi al buio? Il segretario abbia chiarito il percorso, le indicazioni, i criteri di valutazione dei prossimi passaggi. Non c'è né un'apertura né una chiusura, c'è un appello che riprende quello del Presidente Conte a tutte le forze europeiste che intendono dar vita a un governo che arrivi da qui alla fine della legislatura. L'appello a questo punto anche a Renzi, non ci sia alcuna pregiudiziale su Conte nemmeno anche sui contenuti dell'agenda Conte sul quale più volte è stato critico durante quest'anno? È evidente che l'appello parte dalla personalità che viene indicata alla guida di Palazzo Chigi. Non do né patenti di affidabilità né di inaffidabilità. Io attendo, come tutto il Partito Democratico, che le forze politiche di fronte al Presidente della Repubblica dicano con chiarezza cosa vogliono fare, poi valuteremo. Da Renzi inaffidabile a niente veti, però è una resa quantomeno ai numeri del Parlamento. Quelli sono e bisogna cercare tutti di fare un passo indietro, anche voi? Il Parlamento tutto deve dare una prova di responsabilità tra coloro che sosterranno il nuovo governo e tra coloro che non lo sosterranno. Ma abbiamo delle occasioni, recovery e altre scelte che dovranno vedere coinvolto tutto il Parlamento. È una prova di maturità. Rispetto anche al Veto e comunque ai Cinque Stelle rispetto alla presenza di Italia Viva. Assolutamente di veti, perché i veti portano al disastro e possono far precipitare il Paese in una china pericolosa. Se l'ipotesi del Conte Ter dovesse fallire, comunque il Partito Democratico ipotizza altri nomi, una maggioranza più allargata sul modello Ursula? Dipenderà dalle forze che aderiscono a questo appello. Non è che noi facciamo a tavolino il perimetro. Il perimetro è la conseguenza delle disponibilità che si manifesteranno. La posizione di Marcucci non è per forza Conte, il Premier? Se non ci fossero i numeri questa è una posizione minoritaria? La relazione di oggi è stata approvata all'unanimità. È la linea del Partito Democratico nel suo insieme, non della maggioranza del Partito Democratico. Grazie mille, grazie mille.